Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo le anticipazioni di Terra Mara del 21 maggio, domenica 21 maggio. Preparatevi a essere travolti da un turbinio di eventi che vi terranno incollati allo schermo. Nel prossimo episodio assisteremo a un intenso scontro tra Mushgan e Zuleya dove la tensione raggiungerà il suo culmine. Mushgan lancerà una minaccia a Zuleya annunciando che la sua guerra contro di lei è appena iniziata e l'atmosfera sarà carica di emozioni forti e colpi di scena. Ma prima di iniziare vi ricordo di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale. Nel frattempo vedremo Demir, Fekeli ed Ilmas unirsi in una strana alleanza per evitare che la verità venga scoperta. Un segreto oscuro minaccia di venire alla luce e i nostri protagonisti dovranno fare tutto il possibile per preservare l'onore delle due famiglie. Dopo che Julide ha ricevuto una lettera anonima in questura, la polizia inizierà a sospettare che la famiglia Yaman sia coinvolta nella tragica morte di Erjument. Ma cosa si nasconde dietro questo collegamento? Le conseguenze potrebbero essere devastanti. Vedremo così Demir e Ilmas determinati a riabilitare il nome di Zuleya e a proteggere la verità sul caso di Erjument. Infatti li vedremo recarsi ad Istanbul per incontrare la sorella di Erjument. Hanno infatti bisogno della sua testimonianza per risolvere il mistero. Tuttavia, una volta arrivati nella grande città, si troveranno di fronte alla riluttanza della cugina di Demir a collaborare con loro. Sarà un momento carico di tensione in cui la verità potrebbe sfuggire di mano. Le parole amare pronunciate dalla cugina di Demir sveleranno l'intensità dei conflitti sotterranei tra le varie famiglie, accuse di opportunismo e tentativi di proteggere la reputazione a discapito della verità. Ma il destino riserva sorprese e strani alleati si formeranno. La sorella di Erjument, inizialmente offesa dalla proposta di Iaccaia, cioè di pagare il suo silenzio, cambierà improvvisamente idea. Rivelerà di voler la cifra esorbitante di 5 milioni di lire turche per chiudere la faccenda. Riabilitare i nomi di Zuleya e di Demir avrà un costo molto alto. Intanto Sabatin cercherà di convincere Giulide ad esistere dalle indagini sul caso del ragazzo, ma si scontrerà con la sua determinazione. Infatti Giulide respingerà categoricamente la richiesta del suo fidanzato, ribadendo il suo dovere di perseguire i criminali e di fare giustizia. Sabatin si sentirà così schiacciato dalle circostanze, ma non sarà in grado di confessare la verità a Giulide. In seguito la parente di Demir, cioè la sorella di Erjument, farà il suo ingresso ad Adana, per rilasciare una testimonianza decisiva che scagionerà Demir e cancellerà il nome di Zuleya. Il caso giungerà finalmente alla sua conclusione, nonostante Giulide nutra ancora dei dubbi. Tuttavia ciò che verrà svelato avrà conseguenze imprevedibili per tutti i protagonisti. Più tardi vedremo Fekeli ed Ilmas trovarsi serenamente nel salotto, discutendo dell'accordo stipulato con la famiglia Yaman. Ilmas spiegherà a suo padre che dovranno sborsare una notevole somma di 2 milioni e mezzo per oscurare il nome di Zuleya e prevenire l'identificazione del vero responsabile dell'omicidio. Mentre Ilmas ascolta la loro conversazione sarà pervasa da un'incontenibile furia. Infatti la dottoressa disperata alla ricerca di risposte urlerà ed esploderà chiedendosi perché Ilmas sia disposto a sacrificare il suo patrimonio per ripulire il nome di Zuleya. Fekeli cercherà di calmarla ma lei sarà completamente fuori controllo, divorata dalla gelosia nei confronti di Ilmas e da ciò che ha scoperto nella capanna. Fekeli così rivelerà a Mushgan che Erjument ha arrecato danno a Gulten. Inizialmente Mushgan si mostrerà scettica ma successivamente ribadirà con forza che questa situazione non ha alcuna correlazione con la sua famiglia, con la famiglia Akkaia. A quel punto Ilmas svelerà di essere disposto a pagare qualsiasi importo necessario per chiudere questa vicenda. Ma le parole di Ilmas scateneranno ancora di più l'ira di Mushgan che si lascerà trasportare da un eccesso di rabbia incontrollabile domandandosi il motivo di tutto ciò. Desidera infatti comprendere il perché e la sua frustrazione esplode. Akkaia così sopraffatto dalla situazione si abbandonerà e finalmente confesserà la verità. Sono stato io ad uccidere Erjument. Con questa confessione Mushgan otterrà finalmente ciò che desiderava dopo aver messo suo marito alle strette. La dottoressa rimarrà così senza parole mentre Bege nella stanza accanto udendo la confessione di Akkaia mostrerà pentimento per aver inviato la lettera anonima alla procura. Successivamente vedremo le due famiglie incontrarsi e Fekeli cercherà di persuadere Demir e Ilmas a mettere da parte le loro divergenze e smettere di combattere tra di loro. In questo frangente Fekeli non intende suggerire di diventare amici ma almeno di cessare di considerarsi nemici. Demir così dirà ad alta voce se Ilmas sarà d'accordo metteremo fine alla nostra rivalità. Vedremo così i due stringersi la mano in segno d'accordo e tutto procederà per il meglio e sembrerebbe quasi che la pace fra le due famiglie sia finalmente arrivata. Nel frattempo però anche Zuleia cerca di riconciliarsi con Mushgan. Infatti la vedremo avvicinarsi a lei e dire credo che Seilmas e gli altri sono riusciti a smettere di litigare e hanno deciso di vivere in pace penso che anche noi possiamo fare altrettanto. Tuttavia Mushgan non è interessata a diventare amica di Zuleia e lo fa capire chiaramente. Non mi interessa quello che fanno gli altri. Possono essere diventati amici ma io non farò mai pace con te. La mia guerra contro di te in realtà è appena cominciata. Aggiunge con determinazione. Zuleia è confusa e non capisce il motivo per cui Mushgan si comporti in questo modo nei suoi confronti. E nel frattempo però Mushgan pensa che la felicità nella villa verrà presto spazzata via. Infatti continua a credere che suo marito sia infedele e ha intenzione di vendicarsi di Zuleia. Infatti mentre minaccia Zuleia nella sua testa pensa di appunto aver già inviato a Demir la registrazione dei due insieme abbracciati in una capanna vicino al bosco. E qui si concludono le anticipazioni di questa puntata extra large di Terra Amara del 21 maggio, domenica 21 maggio. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto di mettere un bel mi piace e di iscriverti al canale. Ciao! Grazie a tutti!